come scaricare così il nuovo sparatutto arena breakout infiniti lo trovi direttamente in descrizione il link ovviamente è facilissimo scaricarlo è anche gratuito il gioco quindi vai a cliccare su download scarica così il setup ma dobbiamo fare tutto qua dentro poi dobbiamo installarlo ed eccolo qua ora noi siamo nuovi utenti possiamo registrarci accetto tutto faccio continuo e mi crea così l'account una volta fatto così l'account ora ci porta così sulla sua piattaforma ed eccolo qua questo è il launcher di arena breakout infiniti e ora non ci resta che scaricarlo scelgo così il disco quindi questo questo puoi selezionarlo da qua e faccio install scarico installo tutto automaticamente qua e poi lo avvio quindi se questo video ti è stato utilissimo scaricare e installare arena breakout infiniti iscriviti lascia like per altri problemi commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao